Accanto a me l'assessora alla cultura Maria Luisa Ollio, buonasera. Buonasera, grazie di essere venuti e di aver seguito la nostra serata. Questa è la terza serata in cui presentiamo dei libri. La prima è stata dedicata alla presentazione del libro del luogotenente Sframeli, Drangheta, poi la trilogia dell'istante di Natina Pizzi, quindi una raccolta di poesie e questa è la seconda raccolta di poesie in dialetto calabrese. Questa serata è particolarmente cara anche perché il poeta Bruno Salvatore Lucisano fa parte del gruppo di poeti in piazza che nascono e si sviluppano con Pasquino Grupi. Pasquino rimarrà per sempre nei nostri cuori e quello che lui ha dato a Bova Marina e tutta la Calabria è insostituibile. Sicuramente nell'organizzare questo evento c'è un po' di suo, una certa libertà, ironia a trattare determinati argomenti e ce ne sono veramente interessanti come l'immigrazione, poi anche la rivalutazione della Calabria. Ed ora nel leggere alcune poesie si rivivono queste atmosfere, poi proprio in lingua dialettale. Sì, lo scopo è proprio partire dalla cultura per rivalorizzare il nostro territorio. Io personalmente, ma come amministrazione, abbiamo puntato sin dalla campagna elettorale a fare un percorso di sviluppo culturale, proprio perché per sviluppare la nostra terra bisogna partire dalla cultura e dalla nostra cultura, perché esistono bellissimi posti, esistono grandi realtà che vanno riqualificate e rivalorizzate. A tal proposito, mi fermo a dirle che tra le altre cose abbiamo iniziato una serie di conferenze con il progetto Viorgos per la riqualificazione della sinagoga, quindi del nostro parco archeologico, che è una ricchezza infinita, perché la nostra sinagoga è la seconda in antichità dopo quella di Ostia. Quindi rivalorizzare e ritornare alle origini, perché Bova Marina è multietnica. A Bova Marina sono passate molte culture, la cultura grecanica, la cultura ebraica. Il nostro scopo è quello proprio di compiere un percorso di memoria storica per far riscoprire le nostre origini, anche attraverso queste iniziative. Nel caso appunto del libro del poeta Lucisano vengono trattati dei temi cari e anche alle volte dure e importanti che coinvolgono la nostra terra. Però lui riesce a sdrammatizzare e quindi con ironia ad affrontare temi che in realtà sono anche dolorosi. Una giovane amministrazione comunale che dà un certo colore e anche entusiasmo nel trattare iniziative come queste, sicuramente poi diffondendo la cultura si può rivalutare il nostro territorio. E in questo c'è anche una certa conservazione della memoria, di quello che è comunque il tempo che è stato. Sì, sicuramente il scopo anche è ritornare al passato e farlo rivivere. Come dicevo anche prima, bisogna trasportare nel presente quei valori sani e positivi che facevano parte dei nostri cari, dei nostri avi, perché senza questi valori, senza questa positività non si può pensare di cambiare, di migliorare, prima noi stessi e poi la terra in cui viviamo. Oltre all'iniziativa della rivalutazione della sinagoga, altre eventi culturali che si susseguono nell'estate bovese? Sì, allora sono previste tre serate di poeti in piazza, l'11, il 18 e il 23. Nell'ultima serata saranno riuniti tutti i poeti e verrà consegnato il premio Pelle alla quarta edizione. Probabilmente verrà fatto il 19 un convegno sulla questione meridionale molto caro al professore Crupi e con il nuovo anno scolastico si inizieranno dei progetti anche all'interno della scuola. Primo tra tutti un progetto per regolamentare la raccolta della nettezza urbana, a partire proprio dalla scuola materna, per poi passare a una sensibilizzazione, un percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. E proprio stasera c'è arrivato questo nuovo libro che verrà poi portato a scuola, quindi verrà presentato nelle scuole elementari e nei vari ordini e gradi di scuola. Di che cosa si tratta? Guardi, me l'hanno dato in questo momento. Azzurro e il viaggio dell'oceano. Carmelo Loddo, il paese di Roccatamiundo. Sì, credo sia una favola per bambini. Ovviamente ascoltavo mentre parlavano con il sindaco non per bambini di scuola dell'infanzia, ma per bambini già della scuola elementare. Quindi si parte da una sensibilizzazione, dai primi passi per educare. Anche perché lo insegnano i più grandi pedagogisti, per arrivare ad avere un uomo di valore bisogna partire da quando si è piccoli. Sicuramente questo si sta facendo. Sì, questo è il nostro scopo, partire dal piccolo per arrivare al grande. e mio figlio, io non sono mamma, quando lo sarà può insegnarmi. Questo è il nostro scopo. Fare in modo che oltre ai genitori essere guidati ai figli, i figli siano guidati per i genitori. Complimenti per le iniziative che stai portando avanti e alla prossima. Grazie, complimenti a voi e grazie ancora. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie.